Di cosa si tratta? Esattamente Daniele? Salve a tutti, benvenuti in casa HTC, un caro saluto alla comunità di Solo Palmari, abbiamo oggi il piacere di annunciare al mercato l'arrivo di Wildfire, il fratello minore del ben famoso Desire, che tanto bene sta facendo sul nostro mercato. E quindi con Wildfire andiamo a sicuramente migliorare la nostra gamma di prodotto che diventa veramente completa, soprattutto sulla piattaforma Android. Quindi un'altra macchina Android, quale versione di Android in particolare? Wildfire supporta Eclair, ossia Android 2.1 ed è un dispositivo che ovviamente ha diversi punti di forza, soprattutto fa l'occhiolino a una fascia di utenti molto più giovani, una fascia di utenti che mettono in risalto l'uso in mobilità dello smartphone, soprattutto con riferimento al fenomeno del social network. Ecco, ne possiamo innanzitutto vedere le dimensioni rispetto a Desire? Quindi Wildfire si presenta sicuramente in maniera molto compatta, rispetto a Desire ha un display leggermente più piccolo che è un 3.2 pollici, ma al di là di questo è veramente un sosia del Desire per design, un design molto compatto, molto sottile, che ha come il Desire un mouse ottico attraverso il quale scorrere le sette schermate che compongono la nostra interfaccia utente Sense, che rende l'esperienza utente estremamente ricca. Ha una fotocamera da 5 megapixel con autofocus e un flash LED ed è effettivamente un dispositivo dal quale ci aspettiamo molto. Dicevo prima che è un prodotto che si pone in una fascia di prezzo estremamente interessante sotto i 300 euro e ciò, siamo convinti, permetterà al dispositivo di essere molto competitivo. Ecco, la possibilità di connessione al social network vuol dire praticamente interfaccia Twitter, interfaccia Facebook incorporata nel sistema operativo? Quindi attraverso la nostra HTC Sense, uno degli applicativi principali, è il cosiddetto FriendStream, quindi questo aggregatore di social network attraverso il quale avere gli aggiornamenti dei nostri amici e postare è esattamente semplice quanto editare il testo con la tastiera. Quindi andando a fondamentalmente inserire il mio commento, il mio post sulla tastiera, posso andare ad aggiornare automaticamente tutti i social network a cui sono iscritto. Un punto di volta della usabilità dei dispositivi adesso è come questo fenomeno dei social network sarà ancora reso più agevole nei dispositivi che verranno lanciati. Insieme a FriendStream, HTC Wildfire rappresenta un altro elemento di innovazione in quanto stiamo vedendo in questi giorni un aumentare vertiginoso degli applicativi presenti sul market di Android. È vero che la nuova frontiera della usabilità dello smartphone si pone poi nella misura in cui come rendo disponibili ai miei amici, ai miei colleghi, quello che trovo di utile nel market. Quindi HTC Wildfire ha un applicativo praticamente di application sharing attraverso il quale ho la possibilità di andare a suggerire ed invitare i miei amici o colleghi a provare il nuovo applicativo del momento attraverso un semplice click. Quindi il social networking applicato diciamo alle applicazioni disponibili su Android. Esattamente, la possibilità quindi di mandare il link dell'applicativo che voglio suggerire ai miei amici in posta elettronica, in un messaggio di testo oppure utilizzando FriendStream e quindi invitando la comunità dei miei amici a andare a provare e a installare l'applicativo. Ecco, tornando invece ai dati tecnici, in quanto a connettività, chiaramente con connettività 3G e immagino Wi-Fi e Bluetooth incorporati. È un dispositivo assolutamente completo che nulla che invidiare anche al desire, garantisce una connettività totale e completa. Quindi un desire in miniatura con un prezzo anche ridotto rispetto a farlo maggiore. Esattamente, quindi effettivamente la volontà da parte di HTC di offrire smartphone evoluti con un'esperienza utente estremamente semplice, intuitiva ma anche innovativa ad un prezzo contenuto. Grazie per la visione!